Il tuo corpo è un campo di battaglia, così Barbara Kruger denuncia le differenze di genere all'interno della nostra società. Lei sovrappone la forza della parola a immagini monocrome, protagonisti sono sempre i volti e corpi femminili. Il suo è un linguaggio immediato, si ispira a quello pubblicitario. Lei ha saputo trasformare in arte slogan per contestare stereotipi e pregiudizi, con lo scopo di risvegliare le coscienze con la comunicazione di massa.